Allora a questo punto lasciatemi prima presentare questo nuovo format Uzi Flow Siamo come primo ospite, attenzione primo ospite direttamente da Cuba il Cubano Giorani Potrei azzertare il jefe il jefe il jefe è lo jefe che possiamo dire di Madrid è il Gico della Gallia è il Gio 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 è il Gio il Cubano BOM 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 il jefe ora dice ora dice ora ora Pendeco Pendeco di pelota paro di aca quindi ritorno ritorno te ne rit Kaliano tu mi 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 quindi ecco lo E Chico de la Caglia ha improvvisato tutto. L'ha preparata dieci minuti fa così. Adesso. Seduta a stante. Mi ha detto preparati un testo. E Gio Landi in cubano! Wow! Allora, lì! Sono talenti veri.